Categoria packaging in sezione no food per il cliente 360 più. Abbiamo un'elegante presentazione di confezioni di deodoranti per ambienti trattati come fossero delicati profumi personali. Si prestano anche come complementi dell'arredo. Vince la Corali Bronzo l'agenzia FK Design. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!